Ciao Babbo Natale, ciao Babbo Natale Chi sei? Come ti chiami? Maia 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 Guardami, che vuoi chiedere a Babbo Natale, amore? La casa delle Barbie La casa delle Barbie, vuoi tesoro? Ma sei stata buona? Sì Sì? E poi che altro ti fai portare, se lui vuol? Un altro regalino? Sì Quale? Quale?